No, è attivato, ok, inoltre abbiamo questa cosa Ciao, siamo a Tokyo, ad Achiabara, ad Animate e in mezzo a questo bordello di cose di anime la prima cosa che vedi appena entri sono le cose di Binankoko orribili, non si sa perché ci siano qui ma noi faremo un esperimento non si sa perché ci siano perché qualcuno qui deve averla e noi faremo un esperimento a fatturarlo con un 200 yen buttati per queste cose dove peschi peschi, taschi male dove sono? sono questi e ora guarda come è sbagliato macchinetta e ti esce persona 4 mi ti viene meglio così? beh sì, no, dall'altra parte con tutta di freccine no, ti prego, è troppo bella questa cosa è biondo, attenzione, è biondo oddio è bello perché sta riprendendo la tua mano per il conto è biondo c'è qualcosa di giallo dentro, non è rosa per fortuna però due taschi, taschi non si riesce ad aprire tanto abbiamo capito cosa sarà e non ne saremo contenti ma perché stai facendo una telecronaca di rosa? perché qualcosa l'ha detto aspetta ci siamo quasi sono un socio per tutto no vabbè i tuoi amici a casa e hai vinto un bellissimo bimbo odioso con gli occhi rossi da coniglio e uno smoking che non ci crede manco a lui sei molto fortunata Alice grazie